Spese da controllare e progetti da lanciare. Il 2015 per Palazzo Caraffa si apre con una sferzata da un lato ed è nel cassetto dall'altro, specie nel settore mobilità. Il portale soldipubblici.it, voluto dal governo Renzi per mettere online tutte le spese di enti locali, conferma che si spende troppo e male e non si amministra come ci si aspetterebbe da un buon padre di famiglia, denuncia il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Paolo Foresio. Il confronto con città anche più grandi fa vedere che la cancelleria per risme di carta, penne, matite eccetera costa 3 euro per ogni leccese, mentre a Milano 65 centesimi, a Matera 63. Per non parlare poi di questioni spinose, gli incarichi esterni, soprattutto quelli legali e gli affitti, i primi pesano sul bilancio dell'ente per quasi un milione di euro, mentre i secondi, secondo il sito voluto dal governo, ammontano a 785 mila euro e gravano su ogni residente per 8,79 euro. Proprio qualche settimana fa, dice Foresi, avevamo suggerito se non fosse meglio non vendere alcuni immobili di proprietà comunale presenti nel piano delle alienazioni, anziché pagare tanti soldi di locazione. Ora abbiamo uno strumento in più per dire che la giunta per Rone spreca denari. Ma ci sono anche le buone notizie. Bus gratis fino ai 14 anni e per mamma e papà con il passeggino e poi introduzione del servizio a chiamata. Sono alcuni dei progetti che verranno lanciati quest'anno dall'assessorato al traffico e alla mobilità. Dall'analisi dell'esperienza del progetto Natale in Bus è emerso infatti che molti sono resti all'idea di lasciare l'automobile nei parcheggi di interscambio e utilizzare il mezzo pubblico. Ma abbiamo in mente numerose idee, spiega l'assessore Pasqualini, dalla interoperabilità all'interscambio delle reti, dal bike e car sharing, alla ciclabilità, alla mobilità elettrica fino all'innovazione, come alla realizzazione di app per servizi integrati di infomobilità.